Ciuu Vogliamo tutti più memoria flash non perché è bello ma perché io ho avuto questa piccola esperienza qualche qualche mese fa ormai sono andato in questo sito che si chiama DigitalOcean che è un fornitore di VPS praticamente ti danno la tua macchina Linux come se fosse la tua in realtà probabilmente un para virtualizzato di qualche non so bene neanche cos'è comunque sta di fatto che loro per 5 dollari al mese ti danno 20 giga di flash che se voi andate a guardare in giro sul mercato molti service provider normali ti danno la stessa quantità di disco rigido meccanico per 5 dollari al mese uguale ok quello che ho scoperto smanettando all'inizio è che vado così forte con con questa aggiungendo memoria flash voi sapete i web server sono 95% lettura ok e copiando i file dal vecchio sito quello nuovo andavo a 700 megabyte al secondo in certi momenti quindi onestamente va forte e ho addirittura per un paio dei miei siti messo della memoria virtuale quindi della paginazione esagerata su su disco perché è accettabile lo stesso quindi quei 20 giga ce ne sono un paio di 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 swap e funziona ok quindi con poca con poca spesa molta resa e non si capisce perché oggi non dobbiamo fare tutti col flash ok soprattutto se i prezzi sono così infatti anch'io ho migrato tutto una volta provato tra l'altro è un ottimo servizio se volete chiedermi la la referenza vi do il link così mi mi fanno lo sconto a me allora perché la flash io qualche mese fa a marzo 2015 ho chiamato un mio amico in HGST gli ho detto mi dai il listino ok quindi i prezzi di listino che significa che probabilmente se vuoi comprare i prodotti sono 40% almeno in meno ok sto guardando i prezzi di listino per cui è per darvi una referenza però ho tirato giù questa tabella dove ho messo il disco da 2 pollici e mezzo SAS 900 giga quello classico da 10.000 giri che si mette nei server e negli array un disco da 800 giga SSD sempre da 2 pollici e mezzo stesso form factor e due dischi SATA uno Enterprise da 6 terabyte che è il nuovo taglio standard anche se già si sta parlando di 8 tera e 10 tera e uno da 4 tera consumer ok che poi vi dico più avanti perché allora come vedete quando si parla di soldi questo è ancora costosissimo dicevo potete fare se andate a vedere il prezzo di acquisto oggi di un disco digito probabilmente è molto più basso perché scusate di un disco SSD probabilmente è molto più basso perché questo è un prezzo di listino ok quindi lo potete trovare sui 1400-1500 di pari dimensioni però è per darvi l'idea perché anche gli altri prezzi sono da scontare quindi questo è sicuramente il prezzo più alto cioè è quello più costoso in assoluto mentre il più economico è quello SATA ok consumer quindi quello che c'è nel vostro pc di casa nel mio pc di casa non c'è più però diciamo io avevo un disco SATA fino a quando ho chiamato con un disco SSD mentre il costo al gigabyte come dicevamo prima è sicuramente anche in questo caso il peggiore quello del disco SSD notate che un'altra volta il disco consumer SATA è inferiore ma io vi farei notare la differenza ok per terabyte certo che non è che cambia tantissimo la 0037 a 0049 ok però se facciamo quanto mi costa un gigabyte sul mio disco SSD prima della deduplica prima della protezione prima della compressione prima di tutto ok però voglio comprimere deduplicare ok stiamo parlando di quasi 100 volte di differenza allo stesso momento però se io vado a fare il conto delle IOPS ok che questo oggetto teoricamente può tirare fuori teoricamente perché poi l'array non tira fuori tutte le IO ci sono tutta una serie di meccanismi all'interno dell'array per cui il numero di IO che teoricamente vengono sviluppate da un SSD non vengono viste all'esterno ok però diciamo che il disco rigido è molto veloce e il costo per IO è molto basso stamattina prima vi dicevo guardate il dollaro per IO quando comprate il disco primario che deve far girare il vostro database per esempio e il peggiore in questo caso è il disco SAT certo non è il 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 consumer come prima il disco SAT enterprise perché ovviamente il disco SAT enterprise lo paghiamo di più anche perché ha una una durabilità superiore cioè un MTBF superiore e di nuovo quante IO posso fare per gigabyte l'IO per gigabyte non è una cosa che vediamo spessissimo ok però in realtà è collegato a questo parametro qui quindi quanto mi costa il gigabyte in funzione delle IO ecco questo ti dà un pochino l'idea quando compri e ovviamente in questo caso è peggiore perché il numero di IO che fa un disco SAT sono 80 ok quindi 6 terabyte per 80 o 4 terabyte per 80 certo che è veramente poco ok cosa succede succede questo succede che se io vado a vedere bene in realtà cosa succede il peggiore di tutti è il disco SAS tradizionale da 900 giga perché guardate bene quando parlo di dollari non vince anzi costa il doppio di un disco SATA quando parlo di dollari per gigabyte di nuovo cioè costa 10 volte di più di un disco SATA quando parlo di dollari per IO è lontanissimo dal dal disco SSD ma allo stesso tempo è paragonabile con i valori peggiori dei dischi SATA e così di nuovo mi capita che il disco in IO per gigabyte ha un parametro molto poco valido se paragonato con il disco SSD quindi in linea di massimo questo è il peggiore non costa di meno non va più forte e si avvicina sempre al valore peggiore significa che questo qui è il disco di 10k è quello che non va bene infatti i vincitori chi sono? sono se abbiamo bisogno di prestazioni il disco flash se abbiamo bisogno di capacità il disco SATA perché vi ho detto il disco SATA consumer perché al contrario di quello che abbiamo visto fino ad oggi c'è un'evoluzione molto importante nella architettura di alcuni sistemi si sta andando sempre di più su sistemi che utilizzano di schissata consumer i primi stanno uscendo adesso in produzione a parte i google facebook e gli amazon che già li usano da anni oggi anche le aziende iniziano a usare di schissata consumer si usano tecnologie di protezione diverse che ci permettono di avere più dischi e di poterne rompere di più e quindi avere dei dischi più economici dopo ci ritorno su questo punto qui quindi c'è un gap oggi fra il disco ad apprestazioni e il disco SATA un gap che come dicevo è dato da diverse cose sul disco SATA ok comunque sulla grande dimensione adesso io parlo di object storage è un argomento che mi sta abbastanza a cuore diciamo che se fosse uno scale out storage di ultima generazione più o meno potremmo potremmo esserci lo stesso le performance non si ottengono come siamo abituati a pensarle ma sono soprattutto throughput cioè un grosso sistema scale out che immagazzina tanti file ad esempio non si preoccupa della singola transazione della singola operazione quanta latenza ma il throughput totale faccio un esempio se noi mettiamo in un sistema object storage un file system scale out un file che è magari un film a me interessa che il film venga trasferito velocemente in modo che il mio device possa vederlo bene 1080p quello che è non mi interessa se il primo accesso a quel file è un millisecondo o otto millisecondi o dieci o cento perché una volta che ce l'ho io ho imparato che il throughput sia sostenuto per gestire il mio file e se cento persone accedono a quel file rimanga sostenuto ok i sistemi di questo tipo qui supportano molte più connessioni per quanto la SAM sia grande potrà supportare decine centinaia nei casi più importanti migliaia di connessioni ma non milioni se io prendo ad esempio il mio file e prendo ad esempio Netflix che utilizza come come back-end l'object storage ok il mio file viene acceduto da tante persone contemporaneamente a parte la complessità della loro architettura però non sono io che mi devo preoccupare del singolo accesso è il sistema che offre la stessa lo stesso file a tante device contemporaneamente e tutte con un throughput elevato quindi è un sistema che accetta molte connessioni distribuito su internet infatti dicevo distribuito cioè l'accesso non è locale penso alla storage alla network quindi i server sono relativamente vicini ai storage e server sono relativamente vicini se io penso a una stazione distribuito come può essere l'object storage io posso accedere da una parte all'altra del mondo agli stessi file quindi non è non è lo stesso concetto probabilmente viaggia su TCPIP e probabilmente viaggia su HTTP la capacità il costo è bassissimo voi sapete che adesso abbiamo visto quanto ci costa i 4 terabyte consumer ma in realtà se vai a vedere quanto ti costa Amazon stiamo parlando di un centesimo al gigabyte per alcuni servizi ok quindi stiamo Google ha rilanciato con ancora un prezzo più basso per uno storage equiparabile anzi addirittura più veloce di quello che offre Amazon a parità di prezzo e dicevamo oggi si usa l'erasure coding perché usiamo i dischi consumer oggi praticamente noi possiamo creare dei meccanismi di protezione molto più complessi che in passato posso creare ad esempio dei gruppi di protezione chiamiamolo così assimiliamolo al ride ok dove magari ho 20 dischi in produzione più per ottenere la parità in questo caso non è parità ma è per spiegare posso mettere 4, 5, 6 dischi di parità per cui ho un gruppo di 26 dischi di cui 20 in produzione posso sostenere 6 rotture in quel gruppo poi il resure coding potrebbe essere distribuito quindi ancora 6 rotture in un ambiente molto più vasto questo significa che il costo rimane bassissimo ok e ho la possibilità di avere molte rotture e cambia il meccanismo con cui ragiono sul ride oggi il problema del ride sono i tempi di ricostruzione e il fatto che i dischi sono grandi e potrei avere anche delle doppie in alcuni casi triple rotture noi stiamo passando invece di sistemi molto grandi anche nell'ordine dei petabyte dove io se si rompe un disco non devo correre ci sono alcuni fornitori io porto sempre l'esempio di backblaze backblaze è un'azienda americana che ha un servizio con 5 dollari al mese illimitatamente ti fanno il backup di un device ok grande a piacere quante volte vuoi quindi se tu hai un tuo pc un terabyte loro ti fanno il backup penso addirittura illimitato nel tempo una cosa o comunque un tempo molto lungo per cui ne hanno di dati ok mi pare che l'ultima volta che ho visto le loro chart mi pare che hanno 175 petabyte in gestione in questo momento loro cosa fanno loro hanno dei sistemi del genere e dicono noi nel data center ci andiamo una volta al mese cioè usiamo un meccanismo del genere tale per cui non è che stiamo dentro a cambiare i dischi perché ne abbiamo di dischi in effetti noi che abbiamo 175 petabyte noi una volta al mese contiamo quanti dischi si sono rotti ci presentiamo nel data center con lo scatolone li cambiamo tutti e in un'ora il tecnico ha fatto il suo lavoro facile e anche molto economico pensa invece di andare ogni giorno nel data center cambiare un disco rimpacchettarlo spedirlo ok e il meccanismo loro usano dischi consumer che hanno un anno due anni di garanzia in america è un anno se i dischi si rompono loro li prendono li mettono nello scatolone e li rimandano in garanzia non hanno neanche l'assistenza il disco costa un centinaio di euro centinaio di dollari fine loro quel disco lì se si rompe nell'anno ce l'hanno in garanzia quindi hanno un meccanismo di assistenza che è totalmente diverso da come siamo abituati noi ovviamente 175 petabyte ma se tu inizi a pensare che il tuo petabyte fatto con un meccanismo così potrebbero essere magari dico un numero a caso mille dischi potresti già iniziare a pensare in quell'ottica lì dico non faccio più il lavoro di scambiare il singolo disco ok ma aspetto che se ne rompano uno quantitativo per fare un'unica attività di assistenza magari una volta al mese questi sistemi di solito non hanno la compressione per diversi motivi uno perché è complicata da attivare su un sistema distribuito ok due perché c'è l'erasure coding che è molto pesante per ricalcolare quindi questo va ad aggiungere un altro cpu che non è detto che sia che sia possibile tre molti di questi dati vengono salvati criptati e spesso sono file che possono contenere jpeg o movie eccetera e quindi probabilmente il livello di compressione che vai a ottenere è basso e c'è molta ridondanza invece quindi si usano sistemi per duplicare questi dati in maniera automatica su più datacenter su rack diversi eccetera quindi diciamo che è un meccanismo che è un po' diverso da come siamo utilizzati noi e questo qui è il famoso trash che avevo detto questa mattina distribuito anche la capacità è distribuita non solo l'architettura ovviamente più oggetti metto in giro per diversi datacenter tutta la mia capacità aumenta dall'altra parte abbiamo un all flash e metto anche hyperconverged ok che è quello che sta succedendo in molte infrastrutture hyperconverged sono delle infrastrutture molti di voi lo sanno già che collassano tutto quindi storage networking cpu ram in singoli nodi e che scalano in maniera scale out ok le performance in questo caso si misurano in I.O. per secondo e non per il throughput nella maggior parte dei casi la latenza è un altro strumento di misura la prevedibilità è un'altra componente importantissima delle performance mentre la capacità si ottiene con l'efficienza quindi la deduplica la compressione la granularità il team provisioning per esempio quindi io do solo le risorse effettivamente necessarie e l'efficienza di tutto il sistema quindi come dicevo prima non è possibile che il sistema oggi nel 2015 non supporti il fatto di rilasciare risorse quando queste non vengono più utilizzate aspetto che faccia la foto e lo storage addizionale ovviamente non ne ha più cioè in questo modello qua dove ho questi due che è sempre brutto dirlo nell'informatica ho due silo che si stanno sviluppando uno storage totalmente integrato unificato come si usava fino a poco tempo fa ha sempre meno senso ok perché sì se sono una piccola azienda se non ho molte necessità ok ma se le necessità crescono espandere uno storage unificato che mi dia molte performance molto throughput che mi dia la distribuzione in diversi data center mentre questi qua di solito non sono proprio fatti in questo modo qui eccetera 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 cioè le caratteristiche divergono così tanto che non faccio bene né uno né l'altro come si dice da noi non è né carne né pesce ok quindi diventa sempre più complicato gestire un'infrastruttura con un sistema unificato allora dicevamo c'è un gap oggi sì ma stanno succedendo delle cose nel mercato e sono una più interessante dell'altra una è che ci sono nuove tecnologie per produrre i chip TLC e 3D NAND sono quelle più più comuni mettiamo più comuni che diventeranno più comuni nel senso che si sta partendo adesso e queste porteranno una diminuzione del costo del dollaro per gigabyte ok vi dico anche la 3D NAND sembra quella più promettente cioè invece di avere oggi i chip sono NAND sono costruiti su un singolo strato alcuni produttori hanno iniziato a dire bene possiamo mettere diversi strati uno sopra l'altro e questo fa sì che nello stesso millimetro quadrato centimetro quadrato io posso mettere molte più robe ok magari 32 layer invece che uno per cui la densità teoricamente è molto più bassa facendo questo non c'è più bisogno di fare quello che succede col TLC di diminuire la dimensione della cella quindi non si va più anche perché stiamo arrivando a così pochi nanometri per ogni singola cella che ci sono proprio dei problemi elettrici gravi ok oltre a un certo livello soprattutto per cui posso mantenere delle celle ancora abbastanza durabili nel tempo quindi che possono resistere a più scrittura e posso impilarle in tante invece di andare a rimpicciolirle ok per ottenere più o meno lo stesso effetto poi tutti e due le tecnologie avranno uno sviluppo e si vedrà nei prossimi due o tre anni cosa succederà non in ogni caso per quello che so io almeno 3D NAND per esempio non impatta le performance quindi non è che mettendo 32 o 64 strati andiamo più lenti da quello che ho letto finora almeno con le tecnologie quelle che stanno perché poi dopo anche si richiama tutto 3D NAND ma dietro si apre un mondo c'è chi lo fa in un modo c'è chi lo fa in un altro diciamo che le performance rimarranno equiparabili a quelle di oggi per cui ci sarà una diminuzione del costo per gigabyte e probabilmente ci sarà un aumento delle I.O. che otteniamo per dollaro a quel punto ok cioè rimanendo uguale e diminuendo questo scusate volevo dire diventerà molto più conveniente anche da quel lato lì sta succedendo una cosa che stanno venendo fuori molte più applicazioni in memory che una volta cioè l'esempio più sbagliato del mondo può essere quello di Oracle che Oracle ha abilitato l'in memory non che sia particolarmente utilizzato per fare questa cosa qui è una patch sopra a una cosa che esisteva però molti database sono stati studiati per essere in memory in memory significa che usa il database è è in RAM ok o comunque buona parte del database è in RAM e il disco origine viene usato per fare dei checkpoint ok è vero anche che una delle tecnologie ad esempio nel Big Data che sta prendendo molto piede se ne parla tanto in realtà sta prendendo molto piede è un eufemismo ok diciamo se ne parla tanto è Spark Spark è anche lui è una tecnologia in memory questi signori cosa hanno trovato loro ti dicono ah sì noi possiamo andare 100 volte più veloci di quello che teoricamente era una una lavorazione fatta con Hadoop quindi MapReduce eccetera normale il problema è che andiamo dalle 3 alle 10 volte più veloci perché i dischi non ci stanno dietro cioè il traffico che questi oggetti creano è tale e tanto che il disco rigido normale che è fino ad oggi stato installato nei dischi nei cluster Hadoop non è all'altezza di gestire il traffico quindi di gestire il throughput necessario e in questo caso siccome queste applicazioni in memory devono in molti casi cosa fanno succhiano dai dischi elaborano e scrivono il problema è che sono applicazioni in molti thread quindi tanti in parallelo e scrivono tanti in parallelo tanti in parallelo che sono anche disassati quindi non è più è quel blender effect che abbiamo visto negli anni nelle infrastrutture virtualizzate quindi tanti workload che si vanno a mettere in parallelo anche se sono tutti sequenziali si trasformano in un grosso pasticcio random ok e questa cosa qui con i dischi normali non si può fare quindi se voglio ottenere usare nuove tecnologie sono costretto in qualche modo a usare questa cosa qui dall'altra parte c'è sempre più object storage io parlo di object storage non perché voi vedete l'object storage perché lo state usando l'object storage e che non lo sapete ok cioè mentre fino a poco tempo fatto di quanto dicevano object storage e poi in realtà dicessi ma dove ok devo avere almeno un petabyte considerate che molti dei servizi che già oggi usiamo dropbox per dirne uno sono basati sull'object storage ok e molti nuovi prodotti che stanno uscendo oggi sono basati sull'object storage come back-end ma voi non lo vedete vengono esposti i protocolli tradizionali ma l'object storage dà la possibilità di scalare molto di più e di attivare quelle altre tecnologie di cui avevamo avevamo parlato prima ok nell'altra slide quindi in realtà nell'altra presentazione scusate quindi in realtà l'object storage ok è una cosa che diventa sempre più interessante poi che voi vediate SMB o NFS ne possiamo discutere quelli più furbi vi danno la possibilità di accedere allo stesso oggetto da diverse avere diverse viste la vista NFS la vista con le API eccetera eccetera o attraverso un'applicazione come può essere il sync and share ok qual è il ruolo dell'hybrid in questo caso allora è interessante notare due cose che quando io dico flash and trash non è che è tutto flash e tutto trash non è che è tutto disco origine flash sicuramente diventerà il lo storage primario per tutti i dati attivi primari sia per una questione di costi sia per una questione di facilità ok di adozione il discorso del trash quindi dell'object ok o dello scale out quindi delle grandi dimensioni non è che non ha bisogno di flash perché superato una certa dimensione la RAM non è più sufficiente per gestire i metadati cioè la quantità di oggetti che noi andiamo a mettere in questi sistemi è così grande che i produttori di object storage di scale out storage eccetera stanno mettendo dei dischi flash per gestire i metadati quindi per gestire i dati che descrivono i dati che sono perché la memoria non ce la fa più cioè non è che posso mettere vi faccio un esempio parlavo qualche giorno fa con un produttore di appliance per l'object storage loro hanno tirato fuori poco tempo fa un oggetto da 288 terabyte uno minimo devi comprare tre per far funzionare per far funzionare e hanno messo 512 gigabyte per gestire la macchina con una singola cpu ok perché principalmente archiviazione da lì in poi l'unica cosa che posso fare mi hanno detto noi possiamo solo mettere dei dischi ssd per poter aumentare le cose perché il costo di aggiungere ram eccetera è diventato più alto che aggiungere un disco ssd per gestire i metodati punto quindi c'è un ruolo e tutto sarà più o meno hybrid in particolare l'hybrid è una cosa che nell'S&B rimarrà per lunghissimo tempo cioè dove non c'è e per l'S&B intendiamo la maggior parte delle aziende italiane quindi dove non c'è una necessità di performance assolute e spazio assoluto ci ritroviamo in una condizione di sistemi ibridi che possono crescere facilmente è ovvio che ci vuole un'integrazione ci vuole una serie di cose oggi il nostro sponsor qui ad esempio ha già un sistema ibrido che fa tutte le cose che vi ho detto cioè primario flash da una parte grande capacità dall'altra con dischi digitizionali e espone protocolli a blocchi protocolli file e protocolli object non va bene implementare il protocollo object su uno storage che viene definito primario per una questione di costi se hai tantissimi dati ma se tu hai faccio un esempio 100 terabyte l'opzione object probabilmente ti costa molto di meno che gestire un'infrastruttura per gestire solo gli object ok e magari il giorno dopo puoi implementare facilmente il sync and share per i tuoi 100 utenti ok quindi sì prima dicevo lo storage tradizionale è morto è morto sopra un certo livello sotto è vivo e vegeto all'interno